Durante la fase di taglio è fondamentale evitare che la testa laser entri in collisione con sfredi interni sporgenti. Con pochi semplici click, VPSS 3i Blank di Amada ti permette di distruggere lo sfredo interno sul singolo pezzo e di riflettere le modifiche sul foglio di lamiera. Tutto questo può essere programmato e configurato durante l'esecuzione del nesting.